Oggi abbiamo finalmente concluso la vendita del nostro appartamento in Alta Vassariana. Abitando a Treviso non è stato facile trovare un'agenzia di vendita seria che riuscisse a portare a termine questa operazione. Dopo diversi anni mi sono rivolto a loro perché ho visto che hanno una marcia in più rispetto a tutte le altre agenzie. Quindi consiglio a chi volesse vendere casa in Vassariana di fare riferimento a G-Case competenti, professionali, preparati.